Fuori aria, siamo qui con il mister Fugui Mario. Mister, allora, partita un po', diciamo così, dopo il primo gol, sembrava esserci stata la giusta reazione mentale, poi cosa è successo? Credo che abbiamo incontrato la squadra più in forma dell'Under-14, quindi comunque era difficile. L'importante è che nonostante ogni gol la squadra ha provato a giocare fino alla fine. Mi dispiace perché secondo me dal punto di vista del gioco potevamo fare meglio, però non sono queste le partite appiccino al risultato dove alla mia squadra posso dire qualcosa di particolare. Io credo che questo gruppo possa fare meglio ancora, è chiaro che loro sono veramente forti e si meritano di stare nelle posizioni alte della classifica, sicuramente. Voi invece attualmente occupate la settima posizione a 30 punti, fino a dove può arrivare la squadra? Beh, questo non lo so, vediamo fine settimana per fine settimana, cerchiamo di vincere tutte le partite, abbiamo preparato anche questa con il Grifone cercando di vincerla, poi è chiaro che non tutto riesce, a questo però, ai ragazzi non posso veramente dire nulla, loro preparano tutte le partite come se fossero finali. Sia io, sia lo staff, sia la società, sia i miei calciatori abbiamo deciso di guardare la classifica alla fine e poi vedremo dove siamo arrivati. Grazie Mister. Grazie a te.